Un'azienda di Albanella è stata posta sotto sequestro dai finanzieri del comando provinciale di Salerno. Le fiamme gialle hanno scoperto lo smaltimento illecito dei reflui aziendali in un affluente del fiume Calore tramite un sistema di canalizzazioni interrate collegate a possetti appositamente realizzati. A ciò si è aggiunta la scoperta di un deposito incontrollato di rifiuti speciali. Di qui il sequestro dello stabilimento, all'interno del quale lavorava anche un individuo extracomunitario destinatario di un decreto di espulsione pendente dal 2008, nei confronti del quale è stata avviata la procedura di allontanamento coatto. Il titolare dell'azienda è stato così denunciato a piede libero, oltre che per la violazione delle leggi ambientali, anche per l'impiego di mano d'opera straniera in assenza di un regolare permesso di soggiorno.